Ed eccoci tornati in diretta. Quanto mi fa piacere passare la serata insieme a voi, argomento ricco, micifico, tanto tanto attesa questa puntata. Diamo subito il bentornato agli amici, al di qua e al di là dello schermo, cominciando con Eleonora Fani, bentornata, come stai? Ciao, ciao Gianluca, bene, benissimo, indaffarata come sempre, ma è il mio light motive, non mi posso lamentare. Beh, fra l'altro un abbraccio di solidarietà per i provvedimenti ad personam di censura che ti hanno colpito nel discorso. Grazie, grazie. Penso di essere forse la prima che nell'arco di dieci minuti a scattare della mezzanotte due canali sono stati chiusi in simultanea da YouTube. Devo essergli proprio simpatica, si vede. Tra l'altro uno mentre ero in live, quindi ce li hai fatti capire. Uno anzi mentre ero in live, bravissimo, uno mentre ero in live. Avevo sforato, io vorrei sempre stare entro la mezzanotte, quindi mea colpa. Se fossi riuscita a chiudere entro lo scoccare della mezzanotte come cenerenzola prima che la carrozza diventasse zucca, probabilmente non sarebbe accaduto. Però sì, adesso questa settimana è ancora tutto chiuso e poi dalla prossima comincerà ad aprirsi il secondo canale e poi anche il primo, perché uno è stata una chiusura di una settimana e l'altra di ben due, che mi pone molto a rischio, perché sai che dopo le due settimane c'è la chiusura definitiva, quindi cercherò di, non lo so. Di giocare molto sfonda. Ma d'altronde, come diciamo sempre, si sta come le foglie sugli alberi d'autunno e agosto è vicino e dobbiamo lottare uniti tutti insieme per quel che potrebbero barare ad agosto. Ne parleremo, ne parleremo. Bentornato professore Patrizio Romano Mariotti, come stai? Grazie a te Eleonora, che è un vero piacere, come dire, poter interagire anche con lei in questa chiacchierata di stasera. Ovviamente riunisco alla solidarietà di Gianluca per quanto riguarda quanto Pocanzi detto, ma ti aggiungo che forse non sei la sola e forse non sei la prima perché l'amico Francesco Polimeni sulle ali del Bruco ne ha avute due o tre di chiusure contemporanee in passato, quindi... Ah, bene, allora sono in buona compagnia. Marco Muole, Marco, allora un abbraccio a chiunque abbia un profilo e viene colpito ingiustamente dalla censura perché i reati di opinione non devono essere in qualche modo giustificati. Assolutamente. Questo è un po' che la gente non debba rispondere di ciò che dice, ma nelle sedi opportune e con un giudice imparziale, cosa che siamo ben lontani dall'avere in questo paese. In questo momento proprio. Avremmo una Costituzione bellissima se solo la gente l'avesse mai letta e soprattutto applicata, a partire dalle alte cariche dello Stato che si riempiono la bocca di questa Costituzione, ma non l'hanno mai letta evidentemente. Allora amici, un abbraccio anche al buon Mesbet che è approdato a Torino perché sarà un weekend lungo, quindi un abbraccio a Mesbet che direttamente dall'hotel ci segue anche lui e sarà pronto ad intervenire insieme a noi. Sì, pochi minuti, già più di mille persone collegate simultaneamente, vuol dire che l'argomento dell'Unaki è tra i più attesi. Le persone sono molto interessate a queste tematiche e poi questa sera un bel parterre d'eccezione. Fatemi ringraziare anche i fedelissimi veterani abbonati a questo canale, i nuovi arrivati, chi ci è raggiunto negli ultimi giorni, chi da due anni e mezzo a questa parte. Oltre 500 video a vostra disposizione ne trovate tantissimi anche insieme agli amici che abbiamo insieme a noi. Questa sera trovate i video divisi in live, quindi dal vivo e video normali e le playlist suddivise per redattore. Quindi ai più fedeli e agli appassionati di Eleonora o di Patrizio sappiate che avete le vostre playlist dedicate. Allora, come partiamo questa sera per introdurre questa tematica tanto affine a chi crea anime, fumetti, film di fantascienza e magari storie liberamente ispirate a quanto racconteremo questa sera? Da chi partiamo? Beh, se vuoi posso partire io per un semplice motivo che la nostra Eleonora ovviamente ha fatto una grandissima operazione di informazione e di apertura mettendo in online come dire le chiacchierate di Yaoi di un decennio fa fatte negli Stati Uniti. Quindi comunque ha già fatto un qualcosa di piuttosto rilevante, direi così. Io nel mio piccolo ho fatto due o tre trasmissioni su vari canali YouTube citando a quell'epoca soprattutto Maximilian de Lafayette perché è quello che naturalmente ha parlato soprattutto della sua appartenenza agli Annunaki e della sua appartenenza a determinate società segrete di ibridi umano a Annunaki o di Annunaki tal quali e soprattutto ventilò o meglio previde e fece tutta una serie di vaticini sul ritorno degli Annunaki sulla Terra per il dicembre 2022 che come abbiamo ben visto è venuto a mancare. Quindi magari ecco volevo un attimo precisare un po' di cose cioè allora io ho ascoltato per quanto mi è stato possibile quasi tutte le puntate o buona parte delle puntate fatte da Yaoi e una buona parte degli commenti fatti da Eleonora estremamente interessanti, estremamente come dire larghi di interazioni, di collegamenti, di associazioni eccetera eccetera. Però quello che voglio dire è che sugli Annunna ma come su tutto il discorso extraterrestri e alieni che come iniziò a dire molti anni fa il buon Corrado Malanga sono gli extraterrestri quelli che hanno un corpo fisico e gli alieni quelli che sono energia intelligente o comunque hanno un corpo come dire sottile e non particolarmente tangibile, ci sono tante cose, ci sono tante coincidenze, ci sono tante sincronie ma ci sono anche tante sfasature che rendono come dire chiunque ascolti e sia acculturato edotto ma anche semplicemente curioso o anche chi lavora come noi in questi ambiti in senso lato come dire rimane perplesso perché allora intanto tutti conosciamo il lavoro di Zakharaya Sitchin un pochino anche perché è un amico caro che ogni tanto frequento in varie conferenze conosciamo un po' forse il lavoro di Victor Nunzi sulla cronologia ovviamente degli Annunaki, ovviamente forse un po' meno sono conosciute tutta una serie di collegamenti e di associazioni che con gli Annunaki sono stati fatti nel corso della storia anche recente, quella del secolo scorso e mi vengono in mente prime fra tutti per esempio, guarda caso il nome scelto, l'Evril Damen dell'Evril Gesellerschaft durante la seconda guerra mondiale e prima della seconda guerra mondiale quindi con Miria Orzic, con Gudrun, con Ege, con Taghe e tutte le altre che praticamente erano in contatto con i Sumerian e i Sumerian decidivano di venire da Aldebaran quindi dalla costellazione del Toro e quindi dalla stella di prima grandezza Alfa Tauri che è Aldebaran e naturalmente avevano tutta una serie di collezioni con questa razza che allo stesso modo della Fayette Cita provenienti dal pianeta Ashtaria che a quanto sembra ha pochi collegamenti, almeno da quello che ho potuto vedere io con Nibiru, ma in qualche modo sono presenti. Se andiamo a vedere per esempio i libri Takeuchi giapponesi Nel libro Takeuchi giapponesi quello che è estremamente eclatante e visibile subito salta all'occhio è che la civiltà extraterrestre che raggiunge le isole del Sol Levante decine di migliaia di anni fa se non di più si chiama Sumera Mikoto e che i Monti Sacri per quanto riguarda per esempio i Polinesiani, le culture dell'Oceania, le culture indonesiane e anche le culture sino-giapponesi parlano del monte che è il centro dell'universo come Monte Sumera eppure qui ritorniamo con i Sumeri, con i Sumerian, con i Sumeramikoto, con Aldebaran e con qualche modo comunque col discorso degli Anunna per di più, e questa è cosa recente, io ho partecipato perché era a Roma chiaramente a un incontro che non so se voi conoscete, immagino di sì la cosiddetta società creativa che ha sede a Kiev mentre la Allatra TV ha sede a Mosca guarda caso strano ma sono in stretta collaborazione che ti parlano frequentemente degli Anunaki di quello che accadrà sulla Terra nel 2027 in poi cioè il rivolgimento orografico, vulcanologico, tettonico, di faglia, geologico del pianeta e dal quale potremo salvarci solo se ci sarà una forte adesione a questa società creativa per cambiare il pianeta, per cambiare la società, per cambiare le modalità, le dinamiche di questa società e con un intervento extraterrestre che potrà rivoltare o meglio attutire o comunque cambiare questa situazione alcune delle persone che parlano nella società creativa a volte compaiono con la pupilla verticale mentre parlano e quello che ci è stato detto anche in conferenza a Roma è che ci sono delle presenze Anunaki che si accompagnano a questi esseri umani quindi ho fatto questa piccola premessa ma non perché volevo prendere spazio o tempo ma perché ho dato gli spunti per capire come su tutta questa grande storia degli Anunna poi Anunaki e la declinazione dei Sumeri ma su tutta questa grande storia e così come con tutte le altre che sono collegate con presenze extraterrestri o aliene di vario genere cominciamo a sapere molte cose o parecchie cose ma tantissime altre cioè la maggior parte sono o confuse o accavallate o sovrapposte o antitetiche o sfasate e quindi qui lascio la parola ovviamente a voi e soprattutto a Eleonora allora grazie Patrizio bello intenso io fra l'altro visto che siamo in diretta butto sempre un occhio alla chat perché voi diteci se andiamo troppo veloce troppo in uno specifico in modo che possa essere letta a più livelli in base alla preparazione e a quanto qualcuno e soprattutto il pubblico è riuscito a seguire questi argomenti Patrizio ha dato tantissimi spunti adesso io Eleonora tornerei da te se ti va facciamo anche un passo indietro per dare ancora a chi magari fosse un po' più nuovo a queste tematiche qualche nozione per capire da dove partiamo e poi ti puoi collegare a quanto detto da Patrizio allora diciamo che l'argomento Anun o Anunaki nella declarazione sumera come diceva Patrizio è sempre più di moda se ne parla sempre di più, sempre più persone si sono avvicinate e come al solito bisogna fare attenzione quando un argomento viene proposto su larga scala c'è la fregatura di solito è così e anche in questo caso è così non perché non ci siano degli aspetti di verità ma perché nel tentativo di coprire gli aspetti di verità si propongono delle narrative fuorvianti questo viene fatto sempre è sempre stato fatto non solo per il discorso Anunaki non solo per il discorso alieni ma sugli alieni è diventato famosissimo tutto il progetto Blue Book che nasceva per dire che gli alieni non esistevano facendo un'analisi di 12.000 casi che doveva portare alla risultante che avevano avuto tutti le traveggole avevano visto il pallone sonda scambiato per alieno o qualcos'altro ma che in definitiva i casi veramente un po' strani erano pochissimi conclusione gli alieni non esistono e quando questo progetto Blue Book è nato? proprio nel momento in cui c'erano le prove più evidenti che invece gli alieni c'erano e come alieni, straterrestri adesso poi diciamo esseri che avevano tecnologia differente perché poi quelli che possono viaggiare su altre dimensioni o non hanno un corpo fisico insomma ce ne si accorge molto meno ma quelli che hanno un corpo fisico e hanno una tecnologia che ci vola sulla testa che magari sparisce, non sparisce ha la capacità di essere invisibile però insomma che ogni tanto si vede diventa più complesso o che magari cade da qui tutta l'epoca degli anni 45, 46, 47 soprattutto gli UFO crash eccetera diventa difficile negarne l'esistenza e allora si crea un caso apposta che li cancella o comunque che devia allora questa tecnica che è sempre stata portata avanti la troviamo ancora oggi quindi grossa fetta della confusione riguardo agli Anunnaki è proprio voluta voluta da chi gli Anunnaki e quel tipo di storia sta cercando di nasconderlo e di proteggerlo anche la grande spinta di Zakaria Sitchins è qualcosa che dovrebbe farci pensare Victor Nunzi più volte l'ho ospitato anch'io sul mio canale e lo saluto calorosamente spesso ci incontriamo anche in conferenze seminari eccetera più volte ha evidenziato delle parti del lavoro di Zakaria Sitchins assolutamente importanti affidabili e tutte altre cose che sono diciamo interpretazioni comunque lui con un background di un certo tipo ha avuto l'opportunità di fare tantissimi viaggi e di pubblicare tantissimi libri e nuovamente quando qualcuno riceve uno spazio mediatico così grande di solito c'è un interesse dietro perché toglietevi dalla testa che nella nostra società abbia successo chi è bravo e chi è capace non è così se poi è anche bravo e capace quello è un altro discorso può capitare ma solitamente è chi è funzionale al sistema o ha raggiunto degli accordi questo è un punto al quale all'altro scusami Eleonora perdonami ma credo di ricordare se la memoria non mi inganna che il fratello o un cugino di Zaccaraglia Sicci lavorava alla NASA sì questo anch'io non ho un dato specifico ma potrebbe assolutamente essere quindi diciamo che comunque questo argomento ha avuto tanto successo probabilmente perché come sempre non si può occultare totalmente la verità e quindi piano piano le cose poi vengono fuori e per chi cerca di tenerle celate la soluzione migliore è confondere le acque confondere le informazioni sovrapporre parti vere con parti finte false in modo da deviare la narrativa e portare la gente in una sorta di labirinto dove il figo d'Arianna non si trova e quindi non si riesce a venirne fuori allora la questione Anunnaki per trovare invece la domanda di Gianluca cioè cerchiamo di spiegare chi come cosa perché sono importanti è importante e sicuramente c'è stato un bel interesse nel tenerlo occultato il più possibile perché gli Anu sono una razza aliena che ha per molto tempo interagito e interferito con l'evoluzione del delle popolazioni sulla terra perché ci sono tante specifiche da fare anche quando si parla di specie umana di specie umane umanoidi ce ne sono tante umane umanoidi e non tutte sulla terra quindi togliamoci dalla testa che l'essere umano così come noi lo conosciamo sia una cosa tipica solo del pianeta terra perché non è così ma quello che è accaduto sulla terra almeno nell'ultimo periodo perché la nostra storia è molto più lunga di quanto noi ci aspettiamo o meglio di quanto ci hanno raccontato di quanto hanno voluto farci credere e di conseguenza ci mancano tantissimi passaggi tantissimi pezzi periodi interi ma diciamo che nell'ultimo periodo e per ultimo periodo prendiamoci che so un milione di anni che voglio dire già bello non è poca roba non è poca roba rispetto però alla vita dell'universo è niente ma anche rispetto alla vita della terra e potremmo scoprire che in realtà ci sono dei cicli della terra che fanno sì che intere razze abbiano avuto modo su questo pianeta di svilupparsi evolversi in vari modi l'evoluzione ricordatevi che non va di pari passo l'evoluzione spirituale con quella tecnologica perché c'è anche questo stereotipo chi è avanzato tecnologicamente allora è anche evoluto non è detto non è così non è così intendo spiritualmente assolutamente no può essere oppure no per la maggior parte anche no per cui è un dato per scontato ci sono tutta una serie di pregiudizi e preconcetti anche sugli alieni che si potrebbero trattare allora diciamo che gli Anunnaki o gli Anu sono una razza che è arrivata e ha fatto tutta una serie di sperimentazioni anche genetiche soprattutto genetiche in modo da indirizzare l'evoluzione di una creatura che poi è l'uomo che rispondesse sempre di più alle sue esigenze che sono variate nel tempo ora si potrebbe andare a vedere passo per passo cosa è successo quando e come ma diciamo che siamo partiti da una situazione di uomo molto primitivo il famoso Lulu che aveva una possibilità di legame con il branco e anche di comunicazione istintiva empatica molto forte e quindi era particolarmente scomodo perché comunque quando qualcosa andava male a uno tutto il branco gli si rigirava contro che nasceva per fare una serie di lavori pesanti sulla terra qualcuno ogni tanto mi chiede ma loro che avevano queste tecnologie perché avevano bisogno di schiavi che lavorassero sulla terra insomma comunque arrivando da lontano poi potremmo stare a vedere se è Nibiru o non Nibiru cosa vuol dire Nibiru perché c'è sta parola comunque arrivavano da fuori questi Anunnaki portarsi della tecnologia era ben possibile ma di una certa dimensione e con certe caratteristiche considerando che sono andati avanti migliaia e migliaia centinaia di migliaia di anni a fare lavori qui era molto più comodo creare una razza che lo facesse cioè semplicemente anzi serviva anche per sperimentare perché la terra è sempre stata un punto particolare per una serie di condizioni diciamo energetiche una cosa che nell'universo Star Wars si chiama l'avvergenza comunque parliamo di una condizione energetica particolare che permette lo sviluppo di una varietà incredibile di forme di vita ma più diverse di loro Infatti Leonora c'è fra l'altro la testimonianza così possiamo chiamarla su tanti e tanti volumi per esempio di De Lafayette che ci parla del fatto che il pianeta Terra in realtà era considerato dagli Anunnaki una sorta di laboratorio planetario a 360 gradi e quindi loro qui hanno fatto sperimentazione genetica antropologica biologica ecologica di tutti i tipi e di tutti i generi per centinaia di migliaia di anni quindi questa è una cosa e l'altra cosa che pure mi sento di dire è che tu hai citato benissimo ottimamente ovviamente il fatto che il percorso civile o meglio antropologico pseudo-antropologico su questo pianeta è antichissimo ma io ti dico addirittura che come cito nel mio testo quello sui continenti scomparsi e le civiltà perdute io ho testimonianze ci sono documenti che sicuramente conosci anche tu e che anche il nostro Gianluca ha qualche modo di cognizione per cui ci sono testimonianze di reperti di vario genere che risalgono al continente di Valbara che è di 2 miliardi e 800 milioni di anni fa c'è il reattore del Gabon che è di 2 miliardi di anni fa che dicono che sia completamente naturale ma in realtà io ho dei ricercatori degli amici che sono stati in Gabon e in Camerun a vedere questa struttura almeno parzialmente e mi hanno testimoniato ocularmente che questa struttura si ha alcune caratteristiche naturali ma neanche altre che sono spiccatamente artificiali sono artefatti a tutti gli effetti la civiltà glittolitica di Giusei Cabrera d'Arquea quindi siamo parlando delle pietre di Ica ci narra di una umanità che era coeva dei dinosauri 65 milioni di anni fa così come e tu lo sai perché li conosci gli amici del Rabdo Team quindi quelli che si sono occupati della civiltà eocenica in pianura padana quindi a casa vostra sostanzialmente visto che siete come dire o di nascita o di adozione piemontese ma loro hanno riscontrato nella Provenza a Nizza in Liguria in Piemonte in Lombardia in Emilia Romagna in Veneto tutta una serie di strutture sotterranee che si rifanno al buon ingegner Porro degli anni 60 che ha trovato questo sistema diciamo una sorta di radioestesia tecnologica con la quale è andata a verificare la presenza di queste sfere al di sotto della superficie del nostro territorio padano a 100 200 300 metri di profondità con addirittura secondo queste ricerche secondo i suoi studi con addirittura delle creature biologiche umanoide quiescenti cioè in stato di ibernazione ma questo genere di strutture è risalente a 30 milioni di anni fa cioè al periodo delle oceane e ancora una domanda ecco perché mi è piaciuto molto quando prima Eleonora ha detto mi fanno sempre questa domanda però guarda ne approfitto che ci siete voi perché un'altra domanda che fanno sempre e io vorrei perché ovviamente anche qua noi usiamo il condizionale cerchiamo di unire i puntini io non dico che quel che racconto io che raccontano i nostri ospiti sia la verità al 100% teniamo la mente aperta affinché se un giorno vedessi dimostrato che è così o simil così non ne rimarremmo troppo scioccati o stupiti e la domanda è la seguente poi magari sul finale tanto mettetevi comodi amici perché secondo me andiamo per le lunghe ma la domanda che io voglio porre ai nostri amici è me l'hanno chiesto spesso Gianluca mi dici la differenza tra gli Annunaki e gli Elohim per quanto mi riguarda è solo una questione di nome stiamo parlando degli stessi certo in un periodo differente nel senso che hanno cominciato a chiamarli Elohim nel momento in cui c'era già stata c'era già sulla terra un certo tipo di cultura quindi inizialmente quando vi parlo delle primissime sperimentazioni eccetera eccetera quelli lì non li chiamavano ancora Elohim gli Elohim vengono identificati secondo me da quando ci sono stati i famosi duecento che hanno deciso di rimanere qui perché gli Annunaki hanno sempre o Anun adesso uso il termine Annunaki perché è più diffuso o Anu perché poi si possono chiamare anche così comunque loro sono stati sulla terra a periodi intermittenti cioè non è che stavano qua sempre sono arrivati un milione di anni poi sono piazzati con le tende stavano un po' andavano via tornavano lasciavano delle colonie lasciavano il loro sperimento crescere venivano molto tempo dopo e andavano a visionare cosa fosse successo quando poi a un certo punto dopo aver fatto una serie di sperimentazioni anche genetiche tra cui la creazione non solo del quello che noi conosciamo come Neandertal ma pure dell'upgrade del Sapiens a quel punto c'è stato un momento in cui non erano più in così interessati a livello della loro struttura gerarchica perché gli Annunaki hanno una struttura gerarchica quindi c'è una stratificazione e anche un piano di orientamento di lavoro sui vari pianeti definito a priori nel momento in cui la Terra non era più così interessante portare avanti la sperimentazione si è proposta la tecnica da loro normalmente utilizzata ma non solo da Annunaki una volta finito il nostro campo di sperimentazione abbiamo preso l'oro abbiamo preso le risorse abbiamo fatto quello che volevamo sta roba non ci serve più distruggiamo tutto anche così perché quelli dopo non vengono a ficcare il naso altre razze su quello che abbiamo creato e qua c'è stata un 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 disidio interno diciamo perché ci sono stati alcuni Annunaki che invece volevano rimanere sulla Terra e hanno lottato per questo c'è stato uno scontro anche importante non tutti avevano la stessa opinione quelli che alla fine sono riusciti a rimanere i famosi 200 angeli caduti poi angeli perché ovviamente a seconda delle volte vengono chiamati con nomi diversi e sono poi tra l'altro erano non questi personaggi di elevatura incredibile e chissà che apertura e slancio umanitario sì magari rispetto a quella alla casta più strettamente militare c'erano anche dei militari ma molti erano anche più legati alla sperimentazione scienziati eccetera ma era gente che fra gli ellidi e gli henchiti cioè coloro che venivano seguaci di elli esatto c'erano entrambi sia quelli di anche quelli di elli che poi più o meno con elli ci stanno tutta la casta militare o la mentalità militare che è quella comunque dello sfruttamento e del possesso e della gestione invece con henchi c'era anche tutto l'aspetto legato alla conoscenza al conoscere al trattenere le conoscenze al divulgarle alla sperimentazione e alla scienza quindi erano più scienziati che militari ma in realtà ce n'erano un po' di tutti ma erano tutta gente che comunque all'interno della struttura anunachia non aveva né arte né parte erano tutti così dei personaggi un po' al limite della società dove restare sulla terra era un'enorme opportunità perché avrebbero potuto governare e comandare cosa che non sarebbe accaduto nella loro società quindi si sono proposti di rimanere qui inizialmente anche con buoni proponimenti rispetto agli umani presenti perché hanno anche poi le onore le ribellioni diciamo meglio i dissidi interni quelli anchiti e quelli eliti sono come l'ultima fase perché poi abbiamo la ribellione di quelli che lavoravano in Abzu cioè nelle miniere in Sudafrica di cui abbiamo trovato la città più antica del mondo 200.000 anni fa ci sono i resti sia delle miniere che delle città nel Sudafrica e dall'altra parte abbiamo avuto il problema che almeno così come ci è stato raccontato anche da Sitchin è il problema degli Igigi cioè coloro i quali non si capisce bene se stavano su una stazione orbitante o se stavano sull'AMU cioè su Marte e che a un certo punto si stancano di stare nello spazio o su Marte a fare la guardia o non so che altro il vigilante come scritto nel libro dei Viglianti o dei Vigilanti e poi scendono sulla terra e si oppongono in qualche modo si ribellano alla gerarchia al vertice a Nunna che era qui sulla terra quindi anche di dissidi e di contrasti in quell'asso di tempo all'interno della gerarchia della Casta Nonaghi ne troviamo quante ne vogliamo voglio dire no ce ne sono stati veramente tantissimi e ti dirò di più ci sono pure ora quindi non sono mai finiti non è una cosa nuova come si dice però diciamo che ecco stiamo parlando dell'ultima parte dell'epoca quella in cui vengono descritti come Elohim o El che infatti avevano delle caratteristiche fisiche umane perché gli Anunachi sono un po' più alti ma comunque camminano un po' strani hanno questo modo di camminare tu che sei una grande esperta fra le altre cose di cinema di fantascienza visto che poi insomma sei stata protagonista anche di un grande bel film che è The Creators of the Past che io ho visto quei pochi giorni in cui era accessibile a ottobre 2020 a Roma in multisala ma ti voglio dire che c'è un film di fantascienza dove viene fatta vedere una razza umanoide che ha l'articolazione del ginocchio al contrario e questo film si chiama Rival ed è con Charlie Sheen guarda al momento non mi viene in mente non è l'unico sai che lo riporta perché in effetti c'è questo fatto e comunque viene riportato anche sulla Bibbia che avevano questo modo strano di camminare ne ha parlato anche Mauro Biglino più volte diciamo anche la psicologia greca li distinguevano spesso grazie alle orme lasciate sulla sabbia allora potevano intuire assolutamente assolutamente sì e là il discorso prego prego no la caratteristica di solito proprio più distinguibile era il modo di camminare e il fatto che quando si arrabbiavano avevano una furia incredibile cioè diventavano proprio delle belve avevano un'aggressività comunque molto importante faccio un altro inciso perché giustamente ci sta al momento in mezz'ora siamo solo contemporaneamente più di 2100 persone e si allarga a molti c'è anche chi magari passa per caso e la massa in qualche modo attira viene a sentire ciò che diciamo so che può risultare in qualche modo anche a primo impatto uno di solito ci rimane è chiaro che se le fonti sono Piero Angela e figli mentana per le notizie e il mainstream bisogna fare un po' di difficoltà per diciamo che sia così ma per come ho detto prima abituarsi all'idea che c'è dell'altro per quanto riguarda l'unire i puntini lo si può fare andando a vedere come metodo di ricerca gli elementi comuni che partendo dalle varie mitologie e ciò che si è salvato arrivando fino a noi in qualche modo è come filo conduttore unico che lascia presagire una civiltà globale in tempi passati in cui non potevano avere tutti la stessa fantasia e dedicare tutto questo tempo a un qualcosa di totalmente astratto e privo di ogni fondamento è più verosimile notate anche i termini con cui ne parlo è più verosimile pensare che in realtà descrivessero un qualcosa con cui hanno avuto a che fare o che gli è stato tramandato realmente senza contare che poi c'è anche chi dice ma io a queste cose non credo tu no ma qualcun altro sì è in virtù di queste teorie magari oggi porta una corona sulla testa lui e la sua famiglia stanno sul piedistallo in diversi punti del mondo proprio in virtù di una certo di un certo lignaggio di una certa linea di sangue particolare ecco vero o no intanto questi comandano ecco infatti infatti questo che dici è assolutamente vero e vedo anche ovviamente dai sorrisi sotto traccia di Leonora che è piuttosto d'accordo ci mancherebbe altro che non lo fosse con quello che hai detto ma insomma voglio dire qui intanto andrebbero fatte alcune precisazioni pure per quanto riguarda quello che dice ovviamente Yahweh ma quello che dice anche della Fayette per esempio e soprattutto dell'associazione degli Eulema cioè questa società segreta di ibridi annunachi o annunachi che vivono fino a 35-300 mila anni e che sono in luoghi sotterranei con situazioni esoteriche il libro di Ramadosh e tutta un'altra serie di cose che lui testimonia e racconta ma insomma una cosa che è strana è che diciamo la maggior parte di queste testimonianze ci parlano poco e niente poco e niente per esempio delle razze erettili mentre giustamente e sono profondamente d'accordo con loro sia sia con Yahweh che con della Fayette solo per fare due nomi la presenza dei grigi delle tantissime tipologie di grigi che ci sono sono una presenza nefasta sono una presenza piuttosto importante soprattutto negli ultimi decenni e dal secolo scorso e questo più o meno lo sappiamo quello che è strano però è che in realtà in entrambe le fonti chiamiamole così dei cosiddetti drago o dei cosiddetti rettili si parla pochissimo sono proprio trascuratissimi e invece per quanto ne posso sapere io quindi nella mia parzialissima e modesta conoscenza di quelli che possono essere questi argomenti come tutti d'altronde nessuno è depositario della verità in questo universo e fra l'altro nessuno è perfetto ma siamo tutti perfettibili ma insomma al di là di questo mi risulta che due non le sole ma due fra le razze più antiche apparse su questa galassia e forse in questo universo fin dalla notte dei tempi e che sono state sempre come dire in aperto contrasto o comunque in una dialettica particolarmente come dire probante sono state proprio le razze rettili le razze umane umanoidi che dirsi vogliano tant'è che addirittura c'è una serie di chiamiamole testimonianze perché è difficile chiamarle in modo più appropriato ma chiamiamole testimonianze dove ci parlano che questo conflitto fra razza umanoide e razza rettile o viceversa è antico probabilmente quanto l'universo e addirittura ci sono testimonianze in cui ci viene fatto presente che alcune razze zoomorfe ma comunque antropomorfe a loro volta come per esempio quella degli arietini e dei taurini sono state come dire massacrate estinte o quasi del tutto distrutte tantissimi eoni fa perché erano razze non interessate alla sopraffazione o alla conquista mentre le altre razze che erano interessate alla conquista lo erano e quindi finirono per entrare in contrasto e ci viene raccontato non so con quanta come dire verosimiglianza del racconto che tutte le tradizioni antiche che abbiamo visto sul nostro pianeta ma ancora fino a quelle degli Anunna o degli Elohim come li chiamerebbe Mauro Piglino voglio dire che il sacrificio di animali in particolare arieti e tori è in realtà un retaggio antichissimo del sacrificio di queste due razze la taurina o meglio la rietina e la taurina che sono state quasi completamente estinte e distrutte eoni di tempo fa quindi la cosa che probabilmente in questa battaglia c'erano compresi soprattutto le razze chiamiamole retti li rettiloidi dinoidi saraudi reptoidi chiamiamole come le volete chiamare aggiungo pure che in 300 milioni di anni in cui su questo pianeta abbiamo visto che ci sono razze come l'eocenica come la glittolitica come quella della Siberia quella della principessa di Sulsky che sembrerebbe essere di 800 milioni di anni fa e dico sembra perché mi sembra legittimo dire sembra però voglio dire 300 milioni di anni e più in cui le razze rettili dinoidi reptoidi sauroidi si sono evolute su questo pianeta in 300 milioni di anni non hanno generato neanche una razza intelligente a me pare abbastanza strano quindi poi che siano originari del pianeta Terra come dicono i drago bianchi di Dulce che siano originari sempre del pianeta Terra come dicono i lacertiti delle gallerie sotterranee a Los Angeles o raccontate dagli opi dai navao dagli indiani pellerossi americani che parlano del popolo serpente sottoterra come parlano del popolo formica nel caso di Dulce e quindi sarebbero simili ai grigi ma voglio dire in tutto questo tempo neanche una razza saura che sia origine di qui o che sia da Tuban della costellazione del drago io credo che questa presenza sia netta e alcuni ricercatori l'hanno anche evidenziata eppure guardo strano dei rettili sia l'uno nel caso specifico della Fayette sia l'altro per quanto posso ricordare io delle sue chiacchierate vale a dire di Yahweh sia altre fonti che parlano di presenze extraterrestri sul pianeta come dire spesso e volentieri sono molto come dire o accantonate o dimenticate o evitate o latenti nel migliore dei casi e questa cosa mi lascia un po' sorpreso anche perché abbiamo tantissime testimonianze anche nel caso delle cosiddette razze lacertidi delle razze gecoidi e comunque il serpente voglio dire è presente in tutte le culture e in tutte le latitudini voglio dire vogliamo parlare dei Deva degli Hindu del sopportinente indiano vogliamo parlare è proprio arrivato poiché questa era la prossima domanda tu citi i Deva i Deva tradotti anche gli Asura gli Asura gli Asura letteralmente è in Senza Pace ma tra i Deva quindi abbiamo anche quantomeno il bello di questa sera che portiamo tanti punti di vista tanti percorsi di vista quindi tu citavi i Rettili io dico di andare a vedere per esempio quelli che sono i Naga Deva gli esseri di luce ma rettiliformi e andremo anche a chiedere anzi andrò a chiedere a voi due proprio perché mentre si narrava di questi Anunna di questi Elohim come una sorta di divisione di territori loro avevano in qualche modo a che fare con l'Occidente ma avevano anche in qualche modo timore di chi stava in Oriente come a raccontare di qualcun altro a cui determinati territori fossero affidati magari tu sei benissimo scusami tu sei benissimo perché hai tanti altri ricercatori prestigiosi diciamo comunque capaci e professionalmente in gamba che vengono nel tuo canale a fare il loro report o a dare le loro opinioni ma voglio dire chi conosce un po' anche se auguro trasversalmente tutto questo genere di argomenti che è estremamente ampio estremamente articolato veramente un mare magnum nel quale è facilissimo perdersi questo bisogna dirlo ma insomma cioè tu sai benissimo la storia degli azzurrei tauceti o degli albinei tu sai benissimo quindi che avevano abitato le prime sette isole di Atlantide nella tradizione nosigea e quindi nella tradizione leusina tu sai che queste queste rasse sono state cacciate apparentemente dalla lega grigi insettoidi rettili e quant'altri o nordici o comunque umanoidi poi ribelli o diversi alleati con loro tu sai che nell'impero amazonico 13.000 anni fa sono arrivati gli Sberta che erano barbuti come i Piracocia che erano quelli che erano le divinità andine soprattutto di Tiahuanaco ma Tiahuanaco arriva pure a Oreona la divinità femminile con le lunghe orecchie e col naso di Tapiro che secondo la loro tradizione dà origine all'umanità e noi sappiamo pure che esistono tutta una serie di altre razze umanoidi e non che si sono fatte vive per esempio nella terra di Arnhem con gli aborigini australiane e con i Vandigna noi conosciamo storie che riguardano l'Africa nera l'Africa centrale che riguardano tutta una serie di presenze in questo caso per esempio anche rettili o rettiloidi cioè se vogliamo andare a fare una sorta di atlante delle razze extraterrestri e parliamo di quelle extraterrestri perché come ha detto giustamente Leonora quelle aliene è un po' più complicato come dire in qualche modo identificarle o collocarle ma insomma se parliamo solo di quelle qui parliamo di decine e decine di razze che si sono alternate nei vari decine di migliaia di anni centinaia di migliaia di anni milioni di anni la stessa razza glittolitica di Cosè Cabrera d'Arquea cioè delle pietre di Ica è una razza umanoide ma non umana tanto per dirne un'altra e parliamo di 65 milioni di anni fa quindi qui c'è come dire veramente un mare magnum di cose che ovviamente è difficilissimo comporre in modo organico e soprattutto preciso ma come dire ci sono poi tante cose che vanno anche come dire un po' a spasare ripeto quella dei rettili piuttosto che di altre vicende insomma qui c'è stato Atlantide Lemuria Iberborea Kumari Gandam Idrasil c'è tutto il mondo infraterrestre c'è quella che io chiamo abita dell'Intercapetine che nell'ottocento hanno chiamato Terra Cava ma io sai benissimo perché l'ho fatta con te la puntata una delle puntate che ho fatto in giro sull'Antartide l'Antartide è uno di quei continenti dove il sottosuolo è particolarmente ricco più non solo ma più che altrove di presenze extraterrestri di presenze di civiltà umane umanoidi che hanno abitato la superficie di questo pianeta e che a causa di vari cataclismi naturali e non si sono rifugiate nel sottosuolo ed è lo stesso argomento per cui poi i tedeschi o meglio i nazisti e soprattutto le stesse in erbe cercavano Unterland cercavano il mondo del sottosuolo e tu sai che uno dei libri che ho scritto si chiama Asgardland e Asgardland era uno dei continenti sottostanti all'Antartide così come la Liberia e così come l'Oceano delle Valkirie quindi qui c'è veramente un se cerchiamo di dire qualcosa a chi ci segue e qui c'è da dire che c'è non un enciclo di idea britannica c'è il registro agassico da andare a scoprire beh poi diciamo che tu Patrizio hai messo tantissimo a carne al fuoco e per gli addetti ai lavori sarà veramente una goduria per chi invece è un po' meno preparato si sentirà affogare in questo mare magnum di razze io mi sento solo sull'argomento di dire due cose diciamo che esiste comunque da sempre uno scontro che non è dato da un certo tipo di razze ma un approccio una predisposizione e che può comunque trovare strada avvantaggiata su in effetti certe razze ma questo non significa che siano tutti indistintamente così e comunque non si definisce in funzione del fatto che siano non siano umanoidi parliamo di razze soppressive razze che tendono al controllo di mondi di altre razze di spazi particolari e che tendenzialmente sfruttano il luogo dove vanno senza una particolare etica dove l'unica regola da seguire è il proprio torna conto per il resto indipendence day esatto allora razze soppressive sicuramente fanno parte gli anunaki sicuramente fanno parte molte razze che noi chiamiamo grigi perché dei grigi ce n'è tanti e si fa grande confusione più tipologie io a volte ho parlato di tre ma ce n'è molto più di tre ma diciamo di quelle più importanti ce n'è una soprattutto che è quella che ha interagito poi agli inizi del novecento in maniera evidente anche con i presidenti americani novecentotretta trentaquattro famoso ruswell eccetera esatto diciamo che quella è una delle razze una razza soppressiva gli insettoidi tendenzialmente lo sono abbastanza ma ci sono razze umanoidi o umane apparentemente umane che sono altrettanto soppressive quindi non pensate che chi ha forma umana sono tutti bravi pronti ad aiutare gli altri o perlomeno svizzeri a non interferire perché non è assolutamente detto questo c'è questa idea che invece le razze rettili rettiliani rettiloidi ce ne siano due tre invece come diceva prima Patrizio ce ne sono tantissime con le sfumature più disparate di evoluzione anche spirituale non solo tecnologica e di approccio alcune soppressive altre no quindi compresa la questione dei draco che va tanto di moda e si parla tanto di questi draco i rettiliani e i draco ci sono solo questi due per cui i rettiliani sono delle specie di visitors che sono stati pubblicizzati dal film visitors e per un periodo hanno avuto un enorme successo e questo di nuovo vi deve portare a pensare che anche lì è stata inserita volutamente una narrativa fuorviante e le caratteristiche attribuite solitamente ai rettiliani sarebbero meglio da attribuire a esseri o alieni che non hanno un corpo fisico e che siccome però il rettile fa un po' schifo vengono identificati così ma sono molto più simili ai lux di malanga che utilizzano il corpo entrano nel corpo ne succhiano le energie ma non è che hanno la pupilletta verticale e fanno per intenderci poi sui draco invece o comunque razze di quel tipo ce n'è di tutti i tipi grandi piccoli bianchi mica bianchi reali non reali di tutti i tipi più e meno permettimi la parola tanto sono le dieci passate più o meno stronzi ma comunque sia anche lì alcuni anche storicamente e risaputamente molto saggi e tutt'altro che affini a condizionare altre popolazioni basta pensare Eleonora alla testimonianza di Fischneider o di Thomas Edwin Costeio a proposito della base di Dulce e lì vediamo che coloro che collaborano ipoteticamente se quel racconto è tutto corrispondente al vero coloro che collaborano con Costeio e con gli altri umani che si ribellano a quella situazione per liberare poveri disgraziati che erano sottoposti agli esperimenti chimera coloro che si alleano sono operai rettili contro la loro gerarchia drago-bianca quindi come dici tu anche fra i rettili c'è il buono c'è il meno buono c'è il cattivo c'è il più cattivo in una zona diciamo dell'intercapedine sotterranea come la volete mettere anche perché stare fuori sarebbe piuttosto scomodo perché si vede che non sono proprio normale esatto e di questi questi tendenzialmente per lo meno la maggior parte di quelli che al momento sono nell'intercapedine o sono nell'area sotterranea si fanno proprio gli affaracci loro cioè non hanno nessun tipo di volontà di manipolazione eccetera ma vero è che tra le razze soppressive io ho parlato di una gilda che ha preso il possesso sulla terra bypassando anche gli interessi degli anonachi attenzione perché gli anonachi sono stati per un periodo molto lungo i capi indiscussi ma non è più così adesso perché ci sono altre razze per cui loro sono alleati hanno degli accordi per carità ma non sono solo loro che decidono tutto beh allora in questo caso questi tipi di razze hanno un altro tipo di approccio dove secondo me peggio dei rettili o dei sauropodi ci sono gli insettoidi che sono molto meno evidenti anche perché alcuni svizzano anche su altre dimensioni a volte a volte no ma questa modalità alveare molto pesante di agire di ragionare perché hanno una mente alveare e si muovono in blocco può essere di molto difficile gestione credo che il film che li rappresenti fra virgolette meglio nel senso che in qualche modo ne delinea le modalità comportamentali e le modalità come dire di predazione totale è proprio Independence Day perché quelli sono in realtà insettoidi quelli che si vedono anche se tali sono pure un po' fra virgolette quelli di Alien consentitemi una domanda che è anche un'osservazione poiché nell'ambiente soprattutto cinematografico o romanzato gli anime i manga i cartoni i film e ultimamente veramente sempre in maniera più ossessiva riportano e prendono spunti da questo tipo di tematiche io non so se lo avete ancora visto l'ho citato in un'altra puntata il nuovo capitolo attualmente al cinema dei Guardiani della Galassia se dovrebbe essere il 3 da veramente degli spunti in cui molte persone si inteneriscono guardando quello che in realtà ha molto affinità con quello di cui stiamo raccontando oggi ma chiedo ad entrambi la riflessione è questa pensate che se fosse frutto totalmente della fantasia di alcuni sceneggiatori in realtà non si farebbero tutti causa con tutti cioè questi non vedono l'ora laddove ci fosse la reale paternità di un'idea presa totalmente a caso di in qualche modo andare ad attribuirsene quelli che sono in qualche modo i meriti e gli oneri e i ricavi economici eppure tutti raccontano la stessa storia uguale identica sotto tanti punti di vista ma sembra star bene a tutti come per dire tanto non è di appartenenza di nessuno come se raccoltassero un qualcosa che deriva da tempi antichi e chiedo ad entrambe c'è qualche film andrando a prendere per esempio gli anni 70 80 90 2000 2010 2020 gli ultimissimi qualcosa che vi ha stupito che avete detto caspita eppure visto che Patrizio prima citava Independence Day magari qualcuno dice io per esempio quando studio queste tematiche quindi non è che dico queste cose perché vedo troppi film i film prendono dalle stesse fonti da cui studio anch'io e sono rimasto colpito dell'attinenza poi ovviamente in parte in qualcosa magari poi partono tutti allo stesso modo e divergono in qualche dettaglio ci potete dire qualche film in podio i primi due o tre che vi vengono in mente in cui ragazzi questo è eclatante quindi andate a vedere e gli sceneggiatori la sapevano lunga riguardate questi film lo chiedo a entrambi allora guarda prima di tutto io ti dico che fin da ragazzino io ho sempre sentito prima ancora che hai pensato ho sempre sentito che l'universo è esattamente l'universo la galassia la nostra galassia poi non saprei le altre galassie o l'universo nella sua immensità però comunque la nostra galassia è para para a quello che vedi in valerian di lupeson a quello che vedi nella saga di star wars a tutti i livelli probabilmente c'è molto che ha a che fare come la chiamerebbero i w56 con i cosiddetti ctr quindi con le con le razze sintetiche chiamiamole così o come la chiamerebbero nel caso di star trek i borg per esempio tanto per citarne un'altra oppure è ancora quindi i siloni di battle star galattica quindi queste razze qui e questi sono questi sono ecco valerian star wars star trek e battle star galattica secondo me sono il quartetto che ha dato origine a molte serie a molti a molti appendici che sono secondo me tra i più significativi poi ce ne sono altri che sono piccole nicchie piccole piccole singolarità ma particolarmente interessanti come possono essere independence day a proposito della razza degli insettoidi quindi manti di cavallette o chi più ne ha ne metta ma vado sulla scia di quanto dichiarato dall'amico Damiano D'Alessandro in questo caso quindi un personaggio in amicizia con Stefano Breccia che sa molto sulla storia dei W56 ma vado molto con la forma dell'acqua dove lui stesso e io stesso credo di aver riconosciuto qualcosa in quello dove l'essere acquatico l'essere come dire anfibio che è in quel film sembrerebbe essere particolarmente simile non solo agli Oannes quindi ai cosiddetti uomini pesce che uscivano dal Golfo Persico e di giorno andavano a come dire a portare conoscenza e di sera ritornavano nelle loro strutture subacque ma soprattutto ai cosiddetti Nommo a quelli che sono arrivati fra i Dogon e agli altri esseri anfibio acquatici che comunque presumibilmente vengono quasi tutti da Sirio Sirio A Sirio B Sirio C pare che ci sia pure Sirio D quindi poi ecco questi almeno per quanto mi riguarda sono alcuni di quelli che citerei probabilmente Leonora ne conosce ancora più di me quindi sentiamo quello che ci dice lei ma allora sicuramente chi mi segue lo sa per me Star Wars che tu hai citato e non solo Star Wars film quando parlo di Star Wars innanzitutto parlo dei film di Lucas prima dell'intervento della Disney perché gli ultimi tre che adesso sta andando anche avanti sono gestiti dalla Walt Disney e non ci vuole molto a capire che Walt Disney ha degli altri tipi di interessi per cui ha preso l'universo Lucas e l'ha un po' rigirato a suo uso e consumo stravolgendo totalmente linee narrative per fortuna con Lucas nel momento in cui lui ha dato alla Disney la possibilità di scusate è arrivato Odino che è il mio gatto non Odino anche adesso quella cosa che vedete davanti allo schermo è Odino spostati c'è sempre un gatto protagonista allora dicevo nell'universo Lucas non ci sono solo i film ma ci sono le serie animate dove c'è tantissimo per esempio nella serie animata La guerra dei cloni vengono dette parti di storia molto importanti che non vengono trattate da nessun'altra parte con dei riferimenti che sono tutt'altro che casuali ci sono i fumetti ci sono i libri c'è veramente un universo e la cosa incredibile se voi vi avvicinate a questo universo Lucas scoprirete che ci sono una quantità infinita di dettagli e di storie prese da appunto fumetti serie animate e libri che sono tutte perfettamente coerenti tra di loro le uniche parti che cominciano a diventare distoniche sono quando arriva Disney ma la parte iniziale perché vi dicevo prima poi mi sono distratta col gatto quando Lucas ha dato l'opportunità a Disney di rilevare il tutto e portare avanti la serie di film ha messo come clausula di andare da quel punto dove era arrivato lui in avanti ma non fare nessun prequel non andare a toccare la storia precedente quindi tutto quello che abbiamo fino a un certo punto è assolutamente solo stato gestito dalla Lucasfilm quindi dalla mente di Lucas e da un certo punto in poi invece subentra Walt Disney da quel punto se voi andate a vedere ci sono più storie diverse in cui i personaggi cominciano a mescolarsi con le identità con i nomi con i numeri di figli di uno dell'altro diventa tutto molto più confuso ma fino a un certo punto c'è una coerenza che lascia ovviamente intendere che non sia possibile per una persona sola aver pensato a tutto questo in questa maniera così coerente ma in realtà si sta riportando qualcos'altro in maniera anche un po' romanzata sicuramente quindi per quanto mi riguarda tutto quello che riguarda Star Wars e appunto non solo i film tradizionali è assolutamente da non perdere perché dà moltissimi messaggi per quanto riguarda invece delle serie televisive e anche più recenti vi ho già parlato perché mi ha colpito particolarmente per la quantità di informazioni che comunque fornisce nonostante sia della Marvel che insomma diciamo che porta le informazioni sempre un po' come lo fa la contraparte perché la Marvel è Deep State non c'è bisogno che ve lo dica io è Agent of Shield Agent of Shield a parte le prime dieci puntate che sembrano un po' superficiali e sembrano prendere più o meno almeno per me personalmente poi invece mi sembra che siano almeno quattro serie se non di più veramente è un continuo a portare richiami molto specifici molto importanti e anche spunti notevolmente così attraenti ecco anche Fringe che è più vecchia anche Fringe dice un sacco di cose soprattutto nell'ultima parte e poi ve ne posso dire un'altra che dà uno spaccato interessante di quello che si cerca di fare con la Cina quindi questo serve per una chiave interpretativa dell'attualità si chiama Mister Robot è una serie televisiva un po' più difficile da vedere perché si entra anche all'interno della patologia mentale il protagonista ha un disturbo di personalità io forse come formazione da psicologa la cosa mi ha intrigato e c'entra moltissimo anche col discorso degli hacker diciamo che su certi aspetti è un po' tecnico ma si comincia a capire davvero che cosa c'è dietro a tutto il mondo web di hacker perché abbiamo un universo di informazioni virtuali che si interfacciano dove la Cina ha un ruolo molto importante dove troviamo un personaggio che ha delle caratteristiche che è perlomeno nel tentativo di gestire la figura Xi Jinping che comunque dà dei problemi al sistema si cerca di dargli attribuirgli certe caratteristiche e questo film è una bella chiave di lettura per vedere il lavoro che si sta cercando di fare questa serie si chiama Mr. Robot diciamo che non è così veloce come può essere Agent of Shield che è molto più Marvel quindi vi prende un po' come Fringe e non la mollate più questo ha dei turbamenti diversi ma ha delle descrizioni capillari della realtà di oggi fatta da un ragazzo che in teoria ha un disturbo di personalità ma in realtà sembra un chirurgo quando descrive il nostro mondo che secondo me se avete un po' di stomaco merita di essere vista ecco poi ce ne sarebbero tanti guarda quello che tu dicevi mi ha fatto venire in mente un paio di cose allora da un lato ma questa è un'associazione di te assolutamente e prettamente personale quando il nostro dico nostro perché ormai come dire ho avuto una certa confidenza diciamo così nel seguire le tue come dire proiezioni attraverso Iaui quando Iaui parla di Ebania beh mi vengono in mente gli alberi di Pandora di James Cameron su Avatar cioè mi sembrano presi da là l'idea mi sembra proprio presa da là e poi l'altra cosa che è coerente con quello che abbiamo detto e che ha detto poco fa Eleonora e che se pensiamo senza andare specificamente nella tematica extraterrestre anche se poi l'ultimo film fatto parla anche di quello se andiamo nella saga di Indiana Jones e i primi film sono degli anni 80 quindi capisci ma come dire la maggior parte delle persone a quell'epoca forse oggi un po' meno ma o non lo so ma comunque la maggior parte delle persone avrà visto la presenza dei nazisti in un dico film come come dire un escamodage di fantasia per poter spiegare il ruolo magari dei cosiddetti cattivi rispetto ai buoni americani o che cioè lì stiamo parlando delle SS anenerbe che forse negli anni 80 non conosceva nessuno ma erano quelle che cercavano le religie che cercavano la presenza degli extraterrestri che cercavano gli UFO crash che cercavano le vestigia di antiche civiltà perdute che cercavano il contatto con con la cosiddetta con lo schwarze sonne con l'altro sole con il mondo di paranormali che cercavano l'unterland e il mondo sotterraneo che costruivano dischi volanti grazie anche agli UFO crash ricoperati come in foresta nera nel 36 e nel 41 come sul lago Van in Turchia orientale sempre nel 41 e come probabilmente attraverso anzi senza probabilmente certamente attraverso anche le rivelazioni dell'Evril Damen e dell'Avril Gesellerschaft quindi come dire quelli sono film dove la massa la persona ha visto tutto ciò come un come dire un artificio cinematografico di fiction di fantasia per mettere a confronto i cattivi dell'epoca con i buoni in questo caso americani ma lì non è un artificio lì le SSNN Herb facevano veramente il lavoro che faceva Indiana Jones solo che Indiana Jones è veramente un artificio le SSNN Herb erano vere beh non è un caso che Harrison Ford sia presente in entrambi i film cioè sia in Indiana Jones che in Star Wars in Guerre Stellari sì Guerre Stellari Star Wars qualcuno chiede di Dune anche Dune soprattutto il primo quello di Lynch ha un sacco di informazioni assolutamente interessante prima parlavi di Butterstall Galactica ho dimenticato di dire Caprica assolutamente Caprica che è il prequel di Butterstall Galactica ed è quello che in realtà racconta come sono nati gli Anunnaki perché questi Anunnaki non dimentichiamoci che nascono da un progetto specifico sono creature sintetiche che hanno piano piano preso la loro coscienza hanno cominciato a ribellarsi diciamo così contro i creatori e questa parte di storia Caprica la racconta molto bene e quindi questo è il prequel guarda ho un altro film che mi viene adesso scusa adesso proseguiamo con i film però Patrizio la mia domanda si collega no? perché la domanda subito dopo è perché fare dei film su tutta una serie di storie occultate ai più ma non a tutti per molti è palese spesso quando parli con qualcuno ma noi l'abbiamo sempre saputo siete voi che ancora non avete capito o che non lo sapete la risposta potrebbe essere duplice in qualche modo devono svelare un qualcosa vogliono raccontarlo per una sorta di magnanimità o perché in qualche modo si è attratti da qualcosa quindi queste tematiche risuonano se fossero frutto della totale fantasia di un viaggio psichedelico o aiutato dalla mera fantasia magari suonerebbero molto meno ecco secondo voi che ipotesi vi siete dati che risposta vi siete dati alla domanda ma perché allora se c'è tutta una versione ufficiale che nasconde distrugge e fa di tutto per nascondere queste cose anche in maniera grossolana come gente come il CICAP con viechi personaggi in cerca d'autore facendo anche brutta figura e dedicando cospicue somme per cercare di trattenere un qualcosa perché lo fanno? guarda allora prima di tutto c'è un discorso che potrebbe essere io uso il condizionale potrebbe essere in maniera molto così spiccia legato al cosiddetto processo di acclimatazione ma questo è legato probabilmente a una delle fazioni che ci dirigono e ci manipolano per un motivo io ho sempre pensato che la dualità si deve riprodurre purtroppo o comunque così è in questo universo in questo contesto si deve riprodurre comunque costantemente a matriosca quindi ci sono delle fazioni delle entità delle associazioni delle compagini scegliete come volete vedere volete chiamarle lobby le vogliamo chiamare logge le vogliamo chiamare padronati e occulti ognuno gli potrà dare l'accezione e la didascalia che crede ma all'interno diciamo che all'interno di ogni associazione o di ogni compagine c'è un ulteriore suddivisione a matriosca della compagine medesima quindi tutti quelli che sono bianchi non sono tutti bianchi c'è qualcuno che è un po' più grigio tutti quelli che sono neri non sono neri c'è qualcuno che è un po' più chiaro e fra queste fazioni subentrano costantemente dei contrasti subentrano costantemente delle modalità dei modus agendi che non sono coerenti con la linea di azione principale questa è una delle possibilità che si riproduce costantemente all'interno di qualsiasi compagine sociale di essere intelligenti spesso persino fra quelli animali quindi come dire è veramente qualcosa di connesso alla natura delle creature intelligenti in questo contesto dall'altro lato probabilmente ci può anche essere e probabilmente c'è seppur rara qualche voce che è all'interno di quel coro ma che in realtà è fuori dal coro e che cerca di portare avanti il suo programma in contrasto sia pur come dire fra il sottotraccia e il latente o il collaterale rispetto al programma originale o al programma di base del resto se pensiamo alla confraternita del serpente alla confraternita babilanese alla fratellanza Rama cioè stiamo parlando delle prime organizzazioni di loggia o di lobby se le vogliamo chiamare così e magari impropriamente che derivavano proprio dalla vicinanza di alcuni esseri umani tal quali o di ibridi esseri umani con alcuni extraterrestri che essendosi appropriati di conoscenze di know-how di sapienza e di esperienze acquisite grazie alla presenza e alla vicinanza molto stretta con extraterrestri hanno acquisito tutta una serie di bonus chiamiamoli così che gli altri esseri umani non avevano e quei bonus sono stati pressoché quasi sempre usati a uso e consumo di che queste conoscenze le aveva e a danno di tutti gli altri quindi credo di averti risposto per quanto mi riguarda sì io direi che sono d'accordo con Patrizio non tutti quelli che utilizzano la fantascienza per divulgare hanno lo stesso obiettivo sicuramente le informazioni vere hanno un altro riscontro un'altra risonanza interiore quindi sia che il tuo obiettivo sia quello di divulgare la verità alle persone che se fosse detto palesemente sarebbe bloccata celata e quindi invece sotto forma di storia di favola di facciamo finta che come dici tu stesso ci permette una libertà un agio maggiore nella divulgazione e quindi questa è una tecnica è una strategia utile soprattutto in un periodo storico dove la censura diventa sempre più evidente detto da me insomma è chiaro ma dall'altra parte anche comunque nell'ipotesi di voler manipolare la percezione delle persone o la storia passata alle persone le informazioni date è sempre necessario aggiungerci metterci una parte di verità se si vuole essere credibili perché sennò puzza proprio di fake quindi chi la realtà la conosce ebbene o la storia tendenzialmente se vuole manipolarci ci metterà una bella fetta di cose giuste corrette che ci risuonano dentro e poi sul più bello porterà la narrativa dove più gli fa comodo ora poi c'è un ulteriore aspetto che è quello che la razza umana l'essere umano nonostante sia stato manipolato in maniera importante da più punti di vista è in grado di plasmare la realtà in cui vive e quindi è un creatore se gli si inserisce una serie di idee di pensieri di come dire prospettive anche in maniera non consapevole attraverso dei meccanismi che possono essere quelli di fargli vedere tutta una serie di film quindi fanno subentrare nell'inconscio dell'essere umano una certa realtà l'essere umano tende a generarla e quindi per chi ci vuole rendere schiavi il fatto di darci delle informazioni o delle idee o delle prospettive è vedi il discorso fan non il dio ma la cosa che è meglio non nominare degli ultimi due o tre anni è un discorso che è stato fatto e visto in un sacco di film in un sacco di narrative proposte ce l'hanno detto un po' in tutte le salse e poi si è materializzata questo è stato molto utile per crearla c'era sì un piano anche ma le cose vanno insieme quindi da una parte la fantascienza ridicolizza certi concetti e uno dice ma no ma quelli sono i film uguale sono stupidaggini quindi se è vero ma è presente troppo spesso in un film viene subito il dubbio almeno normalmente che sia una balla in più si comincia comunque ad assimilare quel concetto dove poi viene più facile proporre quel tipo di realtà per chi cerca di controllarci dall'altra parte è comunque un corridoio preferenziale anche per quei pochi perché comunque restano pochi che cercano invece di dare delle verità e io credo assolutamente che questo sia stato per esempio l'intento di Lucas questo è il motivo per cui i film appunto i primi almeno finché non c'era la Disney in mezzo hanno un come dire un valore molto importante quindi non si può dire che la fantascienza viene usata solo da chi vuole creare un certo tipo di realtà chi ci vuole fregare o chi ci vuole dire come stanno le cose perché è molto più complicata la situazione dipende da chi dipende da quando e da come resta il fatto che a saper leggere tra le righe nella fantascienza si trova più realtà di quella che si trova sicuramente nei nostri testi ufficiali della storia dell'università magari anche della geografia sì sì assolutamente del resto quello che dice Eleonora ho fatto un'osservazione splendidamente centrata perché quello che dice a proposito della capacità umana come dire di incamerare informazioni di immagazzinarle di elaborarle poi di riprodurle in più o meno consciamento inconsciamente ma soprattutto a livello di collettività questo è sicuramente vero tant'è che faccio un esempio per i tanti quando Michael Persinger scopre che nella fase notturna del pianeta Terra cioè coloro che sono nella fase di dormiveglia o meglio di sonno perché sono nella parte oscura ha scoperto che le menti umane creano una sorta di internet antelitteram diciamo così di comunicazione adesso non so se in eterico se in astrale se a livello elettromagnetico non so come ma comunque creano una sorta di rete di connessione e guarda caso strano guarda caso strano Michael Persinger dopo questa scoperta viene come dire in qualche modo cooptato dalla marina degli Stati Uniti per lavorare sul progetto MK Ultra ma guarda un po' e quindi cioè tutto ciò posso chiedere una cosa perché anche qui un'altra delle domande più ricorrenti è i testi antichi raccontano tutte queste storie poiché fu un'epoca un'epoca d'oro in cui i cosiddetti dei camminavano a fianco degli uomini quindi c'era un'interazione e non era celata vi è stato un punto nella storia in cui da prospettive diverse a un certo punto questi se ne sono andati o hanno fatto finta di andarsene e ancora ad oggi andando sempre più su partendo da una società piramidale in cui il numero di individui è pari anche al potere che hanno quindi la base della piramide è molto ampia si può salire si può salire si può salire fino a un certo fino al vertice il cui vertice è staccato dalla piramide stessa noi stessi facendo anche ricerche possiamo risalire a lobby sempre più ristrette sempre più elitarie di cui i politici sono veramente a un piano bassissimo poi abbiamo le lobby le marionette definito da loro stessi Draghi stesso ha detto non mi presto più ai teatranti della politica e poi c'è come se il vertice fosse staccato c'è un qualcuno in cui più sopra di lì non si riesce ad andare e quindi la domanda è uno perché hanno deciso di andarsene o far finta di andarsene e quindi la seconda è se ne sono andati davvero pensate così inverosimile lo dico anche in chat vedo che qualcuno di tanto in tanto fa difficoltà e lo si percepisce anche con delle reazioni spropositate anche lì un po' l'odio verso determinati argomenti è un amore mascherato poiché il contrario della passione per questi argomenti è l'indifferenza portare persone a commentare a dire la loro anche in maniera indispettita evidentemente un qualcosa all'interno gli risuona gli risuona parecchio ma ne sono magari spaventati certo guarda io per quanto possa dare interpretazione risposta a quello che hai chiesto quello che ti posso dire è la risposta è necessariamente articolata almeno per quello che mi riguarda perché innanzitutto su questo pianeta ci sono stati tutta una serie di reset e questi reset sono stati in parte naturali perché c'è una ciclicità che avvolge non solo il pianeta Terra ma credo l'intera galassia e l'intero cosmo per cui c'è una sorta di algoritmo che prevede a un certo punto una ciclicità per cui c'è la cometa c'è il meteorite c'è l'impatto c'è la deriva dei continenti c'è l'inclinazione dell'asse terrestre che cambia c'è la distruzione del pianeta come è successo dove c'era la fascia degli asteroidi c'è il pianeta giallo mallona maldeck come è stato chiamato da vari c'è ci sono tanti eventi appunto di tipo strettamente naturale o astronomico che portano poi a dei reset ci sono dei reset che invece poi sono invece stati in qualche modo come dire cooptati o cocreati da intelligenze per cui il famoso diluvio universale probabilmente l'ultimo dei vari probabilmente veramente c'è stata un'influenza da parte di creature extraterrestri che erano capaci di influenzare il clima del resto Atlantide che basava la sua civiltà anche e soprattutto sui cristalli la stessa Atlantide era stata in grado e credo che si trattasse proprio della civiltà dell'antidea almeno per quel periodo storico specifico era in grado di avere il controllo completo del clima della terra mantenendo una temperatura un'umidità e un irraggiamento solare un albedo e quant'altro costanti su quasi tutta la superficie del pianeta quindi questo vuol dire che poi se si dispone di determinate tecnologie e oggi come oggi potremmo pensare alla geo-ingegneria tanto per dirne una o ormai vedustissima cognizione di ARP piuttosto che un'altra o di altre tecnologie simili per cui ci sono stati tutta una serie di resette naturali e o artificiali questi resette hanno determinato nel caso della presenza extraterrestre in alcuni casi forse più di uno una condizione ambientale pochissimo favorevole persino a loro e quindi molti se ne sono andati in prossimità di questi resette perché sapevano o li conoscevano o perché erano a conoscenza del fatto che qualcuno l'avrebbe creati o co-creati quindi molti se ne sono andati per questo motivo leggasi gli sverta che se ne vanno dall'impero amazzonico e dal bacino idrografico amazzonico perché sanno che sta arrivando qualcosa nella fattispecie probabilmente si è trattato di uno degli impatti cometari quello di 6.000 o di 9.000 anni fa 13.500 anni fa per una serie di ragioni che qui sarebbe lungospicolare come dire avviene la fine della claciazione la fine della claciazione porta all'aumento del livello dei mari nel giro di pochi mesi di 155 metri rispetto al livello dei mari precedenti quindi c'è tutta questa serie di situazioni che implicano la dipartita o la come dire l'allontanamento fittizio o fattuale di tutta una serie di razze extraterrestri ma c'è anche una sostituzione o sedicente tale di gerarchie all'interno di questi dei che camminavano sulla terra con gli esseri umani o con gli ibridi umani fra virgolette perché probabilmente se gli Anunna piuttosto che gli Sverta piuttosto che gli Azzurrei o gli Albinei piuttosto che i Dropa che sono atterrati in Cina o nel deserto della Mongolia piuttosto che qualcun altro magari a un certo punto del percorso storico ha visto l'avvicendarsi con un'altra razza o con un'altra tipologia di extraterrestri o di creature intelligenti che magari hanno preferito fare le cose dietro le quinte invece che farle in maniera diretta e quindi chiaramente l'abbandono del pianeta Terra da parte di diverse razze extraterrestri è stato da un lato fattuale ma dall'altro lato è stato assolutamente fittizio perché molti altri sono rimasti o nei dintorni o sotto terra o sotto il mare o in orbita o su pianeti vicino o molti altri hanno dovuto andarsene perché sostituiti da altri che avevano un altro tipo di politica e un altro tipo di agenda e quindi si sono comportati in un altro modo leggasi fra gli altri alcuni tipi di grigi per cui secondo me la verità è questa cioè se ne sono andati per questi motivi e coloro che non se ne sono andati hanno fatto finta di essersene andati fra quelli che se ne sono andati questo per quanto mi riguarda almeno allora sì per quanto riguarda me diciamo che secondo me l'espressione di quando gli dèi camminavano di fianco agli umani eccetera si fa riferimento agli animachi che poi ci siano state altre cose prima ma sono assolutamente d'accordo con Patrizio anche i vari retetti le varie epoche le varie distruzioni alcune naturali alcune sfruttate da alle volte distruzioni dovute da scontri con armi di un certo tipo molto importanti come poteva essere il discorso di Tiamat che ha creato la famosa fascia di asteroidi tra Marte e Giove ma per la storia di quando gli dèi camminavano di fianco agli uomini secondo me qui si fa riferimento proprio a tutto un periodo in cui gli animachi governavano e comandavano loro stessi finché si sono creati a partire dall'Adam e con poi alcuni di loro presi puntualmente un gruppo di persone che rispondevano a loro che avevano delle caratteristiche fisiche no fisiche scusate psicologiche caratteriali più simili a loro e quindi rispondevano perfettamente agli ordini e ai compiti assegnatili per cui non era più necessario che si esponessero era meglio per quanto li riguardava proprio perché innanzitutto poi ricordiamoci che gli animachi non anche sulla terra con la nostra atmosfera loro ci stiano proprio stracomodi soprattutto non nella fascia diciamo centrale se andiamo molto a nord sì meglio perché l'aria è più rarefatta perché il clima è diverso per cui tendenzialmente stanno meglio nelle zone artiche ma comunque quando c'erano con varie anche modalità e accorgimenti ci stavano tra gli umani ma trovando la possibilità di avere chi faceva per loro era stai più comodo perché comunque se anche qualcosa non fosse andato bene si poteva sostituire chi in quel momento faceva le loro funzioni questo sistema ha fatto sì che loro smettessero di apparire di camminare fianco fianco con gli umani ma non significa che se ne sono andati cioè hanno continuato a dare le loro direttive poi però in parte sono stati come si diceva soppiantati da altre razze che comunque ci sono sempre state un gran viavai di razze chi veniva a fare i propri esperimenti chi lo usava la terra come fosse l'autodrill galattico per fare la sosta cioè ce ne state di tutti i tipi ma da un certo punto in poi e stiamo parlando del 1200 le gilde una gilde specifica ha cominciato a prendere veramente il possesso della terra e diventare sempre più presente la sua presenza ricordiamo per esempio la nascita della narrativa degli angeli che è del medioevo stiamo parlando del 1400 1500 in cui c'era una presenza importante dei tall white che sono i famosi alti bianchi che venivano scambiati per angeli o così descritti per un accordo più o meno accordo con gli anunaki che poi si sono anche un po' irritati hanno cercato di toglierli dalla vista ma che in quel periodo erano molto presenti questi sono stati e si sono viste ci sono tutta una serie di situazioni specifiche che fanno riferimento all'interazione tra per esempio i tall white e gli anunaki ora qual è la situazione oggi oggi la situazione è che gli anunaki ci sono ancora molto pochi si ci sono hanno creato nel tempo una forma di interazione per cui i loro sottoposti i loro fedelissimi la loro elite che è un'elite anche di sangue il cui nome comincia per A ma non lo voglio dire perché poi so che Gianluca mi dice che deriva da K ecco questi qua che sono nati dal gruppo poi degli Adam presi specificamente per comandare che oggi sono strettamente legati ad alcune famiglie diciamo il condizionale è d'obbligo perché mi raccomando usiamo sempre sembrerebbe sembrerebbe sembrerebbero legate ad alcune famiglie che sono quelle che detengono più che altro l'aspetto economico e non c'entrano niente i politici qua perché politici siamo molto sotto nella piramide ecco diciamo che tendenzialmente di solito la struttura è stata fatta in maniera che due di questi di queste famiglie uno giovane uno vecchio avessero l'opportunità di indirizzare poi il resto della piramide e questi due non fossero mai in diretto contatto con l'Anunaki o il di Anunaki di riferimento ma ci fossero sempre un paio di intermediari ora potrebbe sembrerebbe che vabbè i due che sappiamo e li ho anche nominati nelle mie live ma andate a cercarle tanto li trovate sono morti entrambi sia il giovane che il vecchio e anche gli intermediari quindi risulta difficile per chi c'è adesso capire chi dà gli ordini diciamo chi e se chi li dà sia veramente lui diciamo che la mia percezione è che ci sia stata una sostituzione anche in quei vertici motivo per cui gli ordini arrivano chi li esegue continua a farli ma ogni tanto si vedono delle cose strane cioè vengono prese delle cantonate assurde vengono seguite delle narrative eccessivamente protratte nello spazio e nel tempo nell'esasperazione di molti loro aspetti che ottengono alla fine il contrario di quello che si vorrebbe cioè il risveglio della gente anziché l'obbinamento quindi per quanto mi riguarda il discorso potere indiscusso degli Anunnaki oggi per me non c'è più anche se il potere delle Gilde c'è c'è ancora e che ne so tutta l'agenda del transumanesimo o insomma del Davos di turno e del UEF sì ha dei punti in comune sicuramente con gli Anunnaki ma è più della Gilda che altro e qua c'è un discorso da vedere cioè c'è ancora uno scontro in atto ma il discorso degli Anunnaki tra l'altro potrei dire che come in tutto anche all'interno del loro gruppo c'è stato chi ha cambiato prospettiva come già era all'epoca di Enki e di Enlil e c'è stato anche chi al momento parrebbe sia alleato con chi invece combatte le razze soppressive vogliamo chiamarla ribellione vogliamo chiamarla alleanza quindi anche sta demonizzazione di tutti gli Anunn adesso diventa un po' anacronistica perché sono meno importanti oggi come oggi è in passato lo sono state moltissimo di quello che pensiamo e non tutti schierati dalla stessa parte anche perché hanno perso potere e la 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 Gilda ha creato problemi anche a loro e hanno cominciato a capire che forse non gli conveniva più tanto anche perché dobbiamo cercare di renderci conto che non è detto non è scontato che lo scontro che stiamo vedendo e vivendo la famosa guerra di informazione ma anche spirituale nella quale siamo immersi non è detto che riguardi solo la Terra anzi a mio avviso non riguarda affatto solo la Terra scusate c'è un altro gatto ne ho tanti ma riguarda proprio un quadrante della galassia e il sistema solare ne è pienamente immerso ci sono altre zone dove in realtà il ribaltone è già stato fatto e le razze soppressive sono già state messe alla volta sì più nell'angolo più in secondo piano ora ripeto quello che ho sempre detto non si può cancellare la dualità non si può cancellare l'ombra per cui non scomparirà mai l'oppositore perché l'altro da noi l'ombra è quella che determina la possibilità che esista una coscienza perché la coscienza nasce quando si definisce noi stessi dall'altro da noi quindi siamo in una dimensione per cui la dualità c'è non possiamo vivere nel solo bene puro solo con le razze positive ma non esistono nemmeno è come dire che esiste solo la luce ma non esiste l'ombra quindi assolutamente d'accordo il problema è trovare un equilibrio dove adesso siamo arrivati a uno squilibrio totale da una parte che ha destrutturato schiacciato e compresso l'essere umano da snaturarlo tanto da fargli desiderare di essere transumano o superumano che vuol dire non meglio ma disumanizzato ed è ora di invece far andare il pendolo dall'altra parte per riequilibrare la cosa guarda un altro aspetto che volevo sottolineare è che Eleonora sa benissimo ma anche tu Gianluca penso che sei benedotto su questo è che guarda caso strano soprattutto nei conflitti più recenti diciamo così di questo secolo e del precedente quindi ventunesimo e ventesimo secolo ma probabilmente qualcosa è di questo genere esistito anche prima e qui ma sempre parlo di epoche storiche guarda caso strano viene fatta la prima guerra del golfo sappiamo per ragioni geopolitiche soprattutto monetarie e finanziarie quindi l'Iran e Iraq non volevano più scambiare il loro petrolio con il dollaro ma volevano farlo con l'euro così come nel 72 io ero ragazzino andavo in bicicletta perché c'erano le domeniche senza benzina era perché l'OPEC governato dai sauditi voleva essere pagato in oro e non più in dollari come è accaduto a Bretton Woods nel 44 quando naturalmente gli Stati Uniti decisero che l'unica valuta con la quale gli Stati Uniti la Federal Reserve e quindi gli Stati Uniti decisero che l'unica valuta che doveva essere scambiata nel mondo con il petrolio con l'oro con l'argento con l'uranio con i diamanti potevano essere i dollari quindi il motivo principale per cui è stata fatta quella guerra era quello e perché probabilmente agli amici affacciati diciamo sul mare di Tel Aviv e su Haifa diciamo così quelle presenze quella siriana quella irachena erano piuttosto fastidiose chiaramente quindi se fosse stato possibile come è stato un po' anche per la Libia e per gli accordi presi con l'Egitto dopo la guerra del 72 73 insomma i motivi erano quelli ma guarda caso strano e vengo a bomba in Iraq viene scoperto qualcosa di molto antico ma anche di molto tecnologico ed Eleonora sa forse meglio di me di che cosa sto parlando ma guarda caso strano qualcosa di assolutamente tecnologico e antico c'è sempre stato ed è stato in qualche modo scoperto e repertato anche in Afghanistan e guarda caso c'è in corso il conflitto purtroppo ucraino-russo ma come trovereste nel mio testo meridiano 361 parallelo 181 sono state scoperte già negli anni 60 70 e 80 dagli ingegneri e dai geologi russi una serie di piramidi vecchie di milioni di anni che sono nel Donbass e in Crimea e anche nello stretto di Perekop cioè vale a dire quella lingua di terra che fa daismo fra la Crimea e la zona di Kherson che oggi tutti sentono nominare perché è teatro di guerra insomma quello che volevo dire è che guarda caso strano quando c'è di mezzo qualche tecnologia extraterrestre qualche reperto antichissimo e altrettanto tecnologico ma guarda caso che stranamente in quella località geografica o in quella nazione o in quell'area poi improvvisamente comunque si va a configurare un conflitto bellico ma guarda che caso male da è così è così effettivamente l'occultamento è sempre importante ed è molto forte scusatemi avete visto distratto perché ho visto qualcuno che chiedeva John Carter sì anche John Carter come film ha un sacco di della Disney però John Carter di Marte della Terra cioè no è John Carter di Marte il film è di Marte comunque è assolutamente interessante spunti anche lì di spunti ce ne sono tanti ma la gilda di cui parli tu le gilde di cui parli tu come dire come fatto galattico è il primo film in cui se ne parla è il dune è il dune di Lynch cioè è la gilda che commercia la spezia che è prodotta su Arrakis quindi c'è tra l'altro perdonate io lo cito spesso tra i più sottovalutati proprio Man in Black ecco perché sembra in qualche modo molto ridicolizzato in realtà è più sottile di altri poiché c'è tanta ironia e tanta satire ma c'è anche tanta conoscenza molti che hanno avuto a che fare con l'industria cinematografica per esempio anche per quanto riguarda Star Trek raccontavano di strani individui che in qualche modo interagivano sul set andano a dire la tipologia di questa specie è più così il carattere è più così dovresti farci come esperti sui fatti raccontavano come sai sia l'FBI che la CIA erano presenti sui set cinematografici di Star Trek negli anni 60 e 70 praticamente ogni giorno cioè a ogni registrazione di puntata e dovevano stabilire cosa vedeva dietro come veniva detto in che misura veniva detto perché veniva detto così come pure io ho una versione come dire leggermente asincrona rispetto a quella che ha dato Eleonora qualche giorno fa credo poco tempo fa ma insomma mi risultava perché l'ho sentito dire anche da Mauro Biglino in una in un'intera sua intervento tempo fa che è stato scoverto in una costellazione para a quella citata di Star Trek il pianeta di origine di Spock quindi il pianeta di Vulcano è che quel pianeta si chiama così e sta nella costellazione reale dove sta così come è stato descritto in Star Trek 50 anni fa ma guarda un po' come citavano in chat anche le tecnologie anticipate che dagli anni 70 sono poi realtà al giorno d'oggi quindi vediamo per esempio gli iPad o tutta una serie di tecnologie anticipate in alcune serie di Star Trek torno all'antica filosofia l'antica storia indiana in cui nei veda si parla spesso si citano spesso viene proprio detto che nello spazio conosciuto nella galassia conosciuta esistono oltre 400.000 specie umanoidi molte delle quali sono passate di cui ecco e poi tutto il discorso di ibridazione quindi in qualche modo i figli degli dèi con gli uomini erano in qualche modo la prima dinestia degli eroi che poi in realtà viene raccontato quanto questi prima ibridazione fosse speciale e che quanto poi questi cosiddette divinità questi esseri erano in qualche modo legati e qualcuno poi poteva scegliere se proseguire anche qui tra il mondo degli uomini o tornare in qualche modo sull'elimo del mondo i malachim i nefilim tanto per ritornare al discorso degli elohim o degli anunna tanto per dirne una ma ci sono molti studi ovviamente non ancora totalmente scientificamente certificati anche se poi il metodo Galileiano per il quale io non solo il massimo rispetto ma che sposo da tantissimi punti di vista è comunque un metodo che ha di per sé un come dire una magagna alla base cioè ciò che è reale è soltanto ciò che è scientificamente riproducibile allora se la vogliamo mettere così appunto come ho detto in altre occasioni allora l'universo già non è non è non è galileano perché il Big Bang riproducete ecco fra l'altro proprio in India ha creato Scalpore avete visto il mondo accademico scientifico che in qualche modo va in subuglio perché in India è detto comunque la teoria di Darwin e dell'evoluzionismo non la insegneremo più quindi tutti sconvolti da questa cosa quando la teoria stessa proprio ad opera e a opinione di chi per primo lo ha in qualche modo enunciato ha detto questa teoria ha una grossa falla ecco non è applicabile al mondo umano l'hanno detto da subito ma infatti vedi l'accavallamento piccolo dettaglio è un piccolo dettaglio irrilevante l'accavallamento come dico sempre in tante semplificazioni che cerco di portare per rendere più comprensibile soprattutto ai meno acculturati o meglio ai meno edotti ai meno informati determinate situazioni e conoscenze dico sempre faccio sempre l'esempio degli stessi degli stessi UFO piuttosto che dei crop circle cioè degli agroglifi diciamo ma gli agroglifi chi li fa e chi li fa gli agroglifi li fanno gli esseri umani burloni quando ed è facilmente riscontrabile che lo facciano lo fanno gli esseri umani un po' più professionalmente preparati quando sono pagati da qualcuno allo scopo apposito di farli li fanno i militari con alcune tecnologie di cui già dispongono e che non sono ovviamente di dominio pubblico li fanno gli extraterrestri e le fanno anche alcune energie definiamole così intelligenti probabilmente endogene al pianeta Terra e esogene al pianeta Terra quindi i crop circle esistono sì chi li fa sei fonti diverse quindi quello che c'è per quanto mi riguarda sì le sfere di coscienza come potremmo definirle sono la fonte originaria principale poi il resto è qualche razza però tendenzialmente poi il resto è tutto come al solito per creare per buttare fango e per confondere ma sappiamo sappiamo bene che il cover up è la più semplice delle didascalie inglesi da spiegare il debunking è quello che ha benissimo spiegato Eleonora fino adesso io anni fa ho aggiunto il super confusion a queste due didascalie perché naturalmente c'è se domani mattina noi tre ci incontriamo dico per dire a Torino e in quell'occasione si materializzano davanti a noi tre extraterrestri provenienti da Albireo che è una stella della costellazione del Cigno e ci portano a fare un giro visibile fra l'altro anche agli altri in giro per la città questo è un evento che non è controllabile da nessuno dell'establishment neanche da quelli al più alto vertice della catena o della piramide cosa succede però succede che questo evento che noi dopo magari sicuramente pubblicizzeremo propaganderemo promuoveremo in vari modi e con varie modalità poiché non è possibile farci un cover up a priori o un cover up costante parallelo verrà fatto un debunking verrà detto che in quell'occasione sopra al mezzo volante con il quale magari decappottabile sul quale abbiamo circolato per Torino c'erano anche Biancaneve i Sette Nani e c'erano anche Pluto Pippo e Paperino dopodiché troveranno qualche persona che dirà che questo oggetto l'hanno visto ma l'hanno visto insieme con Babbo Natale e con la Renna qualcuno dirà che non è vero perché non ha visto niente e poi nel super confusion pagheranno qualcuno per dire che hanno visto realmente quell'oggetto e che si ricordavano pure una bella signora con i capelli rossi un signore con i capelli bianchi ricci e un giovanotto col pizzetto però poi diranno pure che è successo nell'unico giorno in cui non sono alcolizzato in cui non bevevo il super confusion è completo per cui qualunque persona leggerà questa notizia che non è un addetto ai lavori dirà madonna mia quante stupidaggini che scrivono e chiude direttamente la pagina questa è la realtà diciamo che posso dire ancora una cosa in tutta questa confusione la verità bisogna imparare a leggerla in maniera trasversale purtroppo siamo stati adderati ad acquisire una verità da qualcun altro che ce la dà fatta impacchettata e ci dice tipo monolite è così e di solito lì c'è la fregatura piano piano anche le scoperte scientifiche quelle un po' più avanzate un po' più scomode tipo la meccanica quantistica cominciano a definire una realtà variabile variabile dall'osservatore aiuto quindi non ce n'è una lì così la realtà ma anche la verità ora anche a livello psicologico sappiamo che a seconda del punto di vista in cui l'osservatore si mette percepisce vede e reagisce ad una realtà e quindi a una verità diversa allora quello che serve fare oltre a destrutturare una marea di idee preconcette che comunque ci sono state insegnate una marea di dogmi quella roba lì è così è guai a toccarla eccetera 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 quindi che riguardano la storia che è iniziata da un certo punto in poi che riguardano la tecnologia che è sempre andata avanti quindi addirittura nessuno si è reso conto che Lucas ha scritto in una galassia lontana lontana migliaia migliori di anni fa no? quindi in un tempo molto lontano nel tempo ci sono delle tecnologie incredibili ma la gente quasi non se ne accorge è come se fosse un film sul futuro no? perché è una cosa distonica col proprio cervello siamo stati abituati a pensare in un certo modo siamo stati pensati alla teoria evoluzionistica per cui si parte dalla scimmia e si arriva a essere sempre più sviluppati per cui ecco un altro dettaglio se fosse mai vero anche se ci hanno detto che non esistono gli allievi che ci sono e hanno tecnologie avanzate vuol dire che sono evoluti per forza perché le cose vanno insieme allora a parte queste piccole cose e milioni di altre che vanno destrutturate e sarebbe necessario addestrarsi a guardare come quando non so se vi è mai capitato avete davanti uno di quei quadri tridimensionali fatti coi puntini che per poter vedere il disegno è necessario non guardare la superficie perché non si vede niente ma guardarci dentro dove il vostro occhio che comunque è come dire ha una distanza da un occhio all'altro che crea la prospettiva nello sguardo permette di entrare nel quadro tridimensionale in maniera da entrare quasi in una realtà virtuale questo allenamento è necessario farlo ovviamente prima bisogna destrutturare tutti i preconcetti eccetera e poi cominciare a abituarsi ad osservare in modo diverso a leggere le informazioni in modo diverso e anche a sentire perché noi abbiamo un sacco di sensi e capacità che sono state un po' sopite spente volutamente un po' siamo stati noi stessi a tralasciarle perché venivano diciamo così spinte inflazionate altre la vista per esempio con la televisione i computer noi viviamo con un aspetto visivo importantissimo e potreste stupirvi delle cose che siete in grado di cogliere se per un vostro esperimento o se per qualche situazione paradossale dovesse restare senza vista per un po' e scopriresse che ci sono un sacco di altri sensi e noi abbiamo un sacco di capacità nel momento in cui non utilizziamo certe modalità comunicative espressive percettive quindi vale sia per l'interpretazione dei dati quindi i sensi sia nel trasmettere le informazioni utilizzando certe cose io su questo ho proprio strutturato adesso per esempio sono fresca di questa organizzazione degli stage esperienziali di una settimana perché di meno è impossibile proprio per lavorare con le persone sulla capacità di affinare questo tipo di sensibilità e di capacità perché nel gruppo poi questo viene amplificato ovviamente perché la potenza del gruppo aumenta di molto queste capacità infatti quello che dice Eleonora è talmente tanto importante è talmente tanto veridiero che la scienza stessa da se stessa dice la stessa cosa che dice Eleonora perché dal momento che noi siamo in grado di identificare una realtà solamente nel momento del collasso della funzione d'onda o come direbbe meglio Werner Heisenberg dal principio di indeterminazione fra particella e onda ma c'è da dire che la scienza a oggi la teoria del campo unificato mica l'ha raggiunta per cui la fisica quantistica e la fisica propriamente detta non sono ancora riuscite a raggiungere una visione omogenea e unica di come funzionano le leggi dell'universo perché la fisica quantistica ti dice una cosa e la fisica propriamente detta te ne dice un'altra a meno che a meno che non si ritira ma io parlo da profano perché non sono un fisico chiaramente e neanche un matematico ma a meno che vado per associazione di idee per conoscenze acquisite per intuizione personale se la può essere chiamata intuizione personale a meno che non si riscopra o meglio si faccia riemergere quella cosa che negli anni 20 e 30 del secolo scorso era chiamato universo eterico e attraverso l'universo eterico si vada a riproporre la possibilità di una teoria del campo unificato anche perché come qualcuno ci ha insegnato come qualcuno ci ha detto il nostro cervello è un lettore di ologrammi è un lettore di cd di programmi di software quindi chiaramente come dice boom l'universo è olografico e all'interno di ogni piccola particella si riproduce l'immagine dell'intero per cui quello che dice Eleonora che non è possibile come dire guardare le cose da un punto di vista monolitico e monocorde è assolutamente la verità perché la verità a sua volta è ricca di mille sfaccettature è ricca di mille punti di vista è ricca di mille possibilità e di mille opzioni che sono in funzione di chi guarda e di come guarda e quindi su questo sono assolutamente d'accordo allora io nel dire questo direi che intanto ecco una cosa che posso fare è ringraziare tutti per la passione che viene messa in questi racconti un'ora e cinquanta in questo momento direi che non basta e allora io direi che mettiamo un punto e virgola se siamo tutti d'accordo io inviterei questo terzetto per un proseguio fra l'altro con tutto il pubblico che sia della chat ma anche dei commenti protagonista poiché io andrò fra l'altro se vi è piaciuta condividete questa puntata ci sarà un proseguimento e tutti i feedback e le domande ricevute nei commenti oltre che nella chat saranno prese in considerazione per stillare il punto di partenza la scaletta e in qualche modo delle parole chiave per poter proseguire così proprio come una classe virtuale andiamo tutti di pari passo e vediamo anche un po' quello che è il punto di vista e mi stupisce anche Eine che dice già finito veramente è volata è volata questa puntata e io di questo vorrei una conclusione per ognuno di voi prendetevi il tempo che vi serve anche nel ricordare gli appuntamenti che vi vedranno protagonisti o che vi hanno visto protagonisti magari con libri appuntamenti trasmissioni zoom eventi dal vivo ok allora come prima cosa ospite al tuo compleanno domenica 14 a Torino per il compleanno di Gianluca ovviamente insieme a tanti altri ospiti importanti che ricorderà Gianluca perché io sicuramente ne tralascerei qualcuno quindi poi in chiusura lo direi tu poi ormai quasi in esaurimento posti il mio seminario sesto episodio di Above Top Secret che parla proprio della storia dell'essere umano a partire dall'epoca più antica e non necessariamente sulla terra e le varie evoluzioni siamo al sesto episodio questo però è un po' un nuovo ripartire perché sono stata ferma per alcuni mesi perché ho fatto tutto il discorso di Yahweh eccetera eccetera con i vari approfondimenti e quindi questo è un seminario che si trova su talksnow.net il 20 di maggio ma verrà registrato e quindi sarà possibile vederlo anche dopo non più dal vivo e poi soprattutto il mio nuovo viaggio nell'universo dell'esperienza con le persone dopo ormai quasi tre anni di divulgazione web sento proprio la necessità di entrare in contatto con le persone con le persone perché lo scambio di informazione è importante ma esiste un livello subliminale di scambio che si può dare uno scambio energetico che avviene con le persone e si possono far fare dei percorsi o comunque aiutare a scoprire degli spazi interiori degli spazi di sé o dei modi di affrontare la realtà in maniera diversa e quindi anche modificarla in maniera che sia più confacente alla propria identità lavorando di persona questo è il motivo per cui sono arrivata oggi da Ischia dove ho trovato la location giusta e sono riuscita ad avere il pacchetto giusto che sia economicamente allettante perché capisco che per tutti l'aspetto economico comunque può essere un limite e quindi sono riuscita a organizzare insieme a Vincenzo che molti di voi conoscono perché è spesso in live con me tre settimane di vacanza una giugno una luglio una ad agosto che si chiamano vacanza metamorfosi trovate il gruppo su Telegram proprio scrivendo vacanza metamorfosi tutto attaccato dove ci sono tutti i dati le date cosa si fa come è strutturato quanto costa eccetera eccetera oppure anche sul mio gruppo secondo Eleonora Fani Telegram purtroppo su Youtube al momento sono ferma però se vi piacciono i miei argomenti comunque vi invito a visitare il mio canale Eleonora Fani ce n'è un secondo piccolino secondo Eleonora Fani ma più che altro il canale principale quello con 37.000 iscritti insomma dove trovate un bel po' di questi argomenti in questo momento sono ferma ma appena il signor Youtube si degnerà di farmi ricominciare a lavorare vi riporterò altre live con altre informazioni però ci tengo all'aspetto esperienziale perché secondo me oggi non c'è solo tanto da ascoltare ma bisogna anche provare provare sulla propria pelle sentire utilizzare lo slancio che ci può essere la forza che ci può essere tra individui e persone che hanno la volontà di percorrere di fare una strada di percorrere un percorso scusate il gioco di parole in funzione di un obiettivo non siamo tutti uguali certo ma le persone che si iscriveranno è evidente che avranno almeno un interesse comune e di conseguenza questo tipo di energia sarà utilizzabile poi io per chi mi conosce lo stanno ho tantissima quindi avrete modo di farmi tutte le domande che volete probabilmente non andrò mai a dormire per una settimana perché immagino che ci sarà anche la necessità di chiedere ma io pensavo io ho visto a me è successo ecco tutto questo io non lo posso fare tramite internet non lo posso fare tramite web o tramite telegram perché è impossibile e sarebbero troppe le cose ma per chi sarà personalmente presente insieme alla bellissima Ischia che è stupenda insieme all'Eterno e al sole e al mare ci sarà la possibilità di fare esperienza di quello che l'essere umano può fare sia nel dare che nel ricevere e nel creare il mondo che desidera perché tutti vogliamo un mondo diverso ma nessuno sa bene come fare e proviamo a mettere un tastello basta scusate mi sono dilungata un sacco ora mi taccio grazie per quanto riguarda Ischia intanto vorrei suggerirti se trovi una mezza giornata nel polto programma che sicuramente avrai vai a vedere la galleria cerca di avvicinarti alla galleria del Magone o alla grotta del Magone perché quella e altre gallerie erano le gallerie che le SS e Nenerbe hanno percorso fino al centro del Monte Vomeo per cercare ulteriori accessi alla Terra Cava o meglio a Unterland chiusa questa parentesi insomma per quanto mi riguarda insomma ho citato perché sono usciti nel corso dell'anno precedente insomma ho citato ma volutamente perché come dire è opportuno rispetto all'argomento che trattavamo il mio libro Asgardland che è edito dalla Luxencoedizioni e che è un libro che riguarda le basi tedesche in Antartide quindi base 211 la Noche Babbeland e tutte le tecnologie tedesche relative ai cosiddetti Flybenderscheiken o ai cosiddetti Flugerats ai Ramchiff all'Andromeda Gerat a Digloch e la Campana eccetera eccetera e quindi con tutta una serie di appendici incredibili devo dire veramente rare da trovare da incontrare per quanto riguarda insomma tutta l'organizzazione delle SSN NERB e tutti gli scienziati e le tecnologie tedeschi italiani e giapponesi che hanno collaborato in quel periodo l'altro testo mio che è uscito proprio praticamente a Natale gennaio di quest'anno è Meridiano 361 parallelo 181 terra incognita e dintorni continenti scomparsi civiltà perdute città segrete e luoghi città misteriose e luoghi segreti che è solo il volume 1 di una trilogia che vedrà come dire il suo percorso nei prossimi mesi sto lavorando ancora dei lavori che riguarderanno ancora le Wunderwaffen e naturalmente alcune tipologie specifiche fra l'altro delle Wunderwaffen il 24 a giugno a Roma mi troverete ovviamente in presenza in presenza fisica all'evento che farà a Roma l'amico Gianluca Lamberti facciamo finta che nei primi di luglio successivi farò un intervento proprio qui a Facciamo Finta Che sempre con Gianluca che riguarderà proprio alcuni misteri e alcuni segreti legati all'attività delle SS e Anenerbe in Italia e probabilmente in giugno sempre su YouTube mi sarò presente presso un altro un altro amico YouTuber con una puntata dedicata alla civiltà del Mar del Gobbi e ai segreti del Mar del Gobbi e per quanto mi riguarda ripromettendomi nella prossima occasione quando sarà possibile realizzarla con Eleonora e con Gianluca di andare a esperire un po' di più se è possibile se c'è il legame per esempio fra Nibiru e fra Ashtaria e con questo garantito anch'io mi tacito e lascio la parola a Gianluca che si è perso ce lo siamo giocato no ecco 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 scompari e ricompari fai i giochi di prestigio ecco ok ce l'ho fatta non collaborava più la webcam allora deduco che il mio pc è arrivato e allora io ringrazio di cuore tutti al di qua e al di là dello schermo non vedo l'ora di abbracciarvi tutti sempre al di qua e al di là dello schermo grazie al buon Mesbet che è già in terra torinese per organizzare domani c'è anche un bellissimo concertino trovate tutto sui nostri social e organizzeremo insieme un altro appuntamento di questa serie quindi un grazie di cuore a tutti direi che chiudiamo questa bellissima serata se vi è piaciuto lasciate un like condividete e andiamo con il promo sigla grazie a tutti per essere stati insieme a noi ciao buonanotte saluti a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.